Bella a tutti Fortnite Arts, benvenuti e bentrovati su Leontube in questo video andiamo a vedere l'incarico ripristina salute o ottieni scudi usando cibi molto semplice, dobbiamo ottenere salute o scudi usando dei cibi i cibi li troviamo nelle cassette nei box della verdura fresca e il cibo fresco molti sono a piazza piacevole questa missione sostituisce quella di usare eccola qua, del codice dei pirati 7 sostituisce quella di usare la nave nella bottiglia che era buggata quindi non funziona ora andiamo a cercare le scatole sperando di trovare il cocco oppure dovremo perdere energia punti vita per poi male per poi ripristinarli eccoli qua raccogliamo la frutta, certo farne 100 non è affatto semplice però tra scudi e energia potremo riuscirci eccoci qua che ci siamo ben riforniti di cibo ora ci hanno anche sparato quindi abbiamo perso l'energia e andiamo a recuperarla non è però ancora tutto siamo a 57 eccoci qua 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 Grazie. 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 Grazie.